amici di senato ben ritrovati puntata dedicata interamente a voi che amate il mondo delle auto vetture e naturalmente noi non possiamo che parlarvi di auto gruppo s in corso giugno cesare 324 a torino a un passo per la torino milano con me c'è giovanni maggiori ciao giovanni ciao vittoria e bentornati a tutti voi grandi novità anche questo mese pronti per raccontarle partiamo partiamo e con la sportiva di casa suzuki vi ricordiamo che ancora valida la promozione super permuta venite a scoprirla due ruote motrici quattro ruote motrici nella versione sport ovviamente ibride a partire 17 mila e 500 euro mini suv da città ignis due ruote motrici 4 per 4 oppure cambio automatico a partire da 19 mila euro venite a scoprirla e soprattutto a provarla e fino al 31 marzo ancora promo super permuta su s cross 4 ruote motrici cambio automatico in versione ovviamente ibrida venite a scoprirle a provarla a partire da 22 mila e 500 euro col nuovo piano suzuki solution potete comprare la macchina e restituirla dopo quattro anni vi aspettiamo swissport la sportiva di casa suzuki 1.4 ibrida 129 cavalli termici più il motore elettrico a partire da 23 mila e 500 euro venite a provarla pochissime disponibilità e anche su suace l'open space di casa suzuki full hybrid cambio automatico abbiamo la super permuta venite a scoprirla e a provarla a partire da 25 mila e 500 euro l'ammiraglia di casa suzuki a cross la plug in con autonomia da 98 chilometri totalmente in elettrico 306 cavalli da 0 a 100 in 6 secondi venite a provare questa splendida macchina a partire con gli incentivi statali da 46 mila e 900 euro e come sempre amici vi ricordiamo il nostro vasto assortimento di veicoli usati da auto group s troverete l'usato giusto per voi disponibili finanziamenti e ovviamente tutti i test drive che richiederete grazie siamo giunti in conclusione della nostra puntata vi ringraziamo per essere stati con noi naturalmente ringraziamo anche giovanni maggiore grazie vittorio e grazie a tutti voi per averci seguito e sono da auto group s trovate tutta la gamma in pranta consegna in corso giulio cesare 324 torino alla prossima seguiteci anche sulle nostre pagine social